Il Cine Teatro Ferrari di Sapri apre le porte alla nuova stagione teatrale, che cosa prevede questo nuovo cartellone? Questo nuovo cartellone è molto ricco di spettacoli, realizzato grazie al contributo e alla compartecipazione del Comune di Sapri e dall'Associazione Chiedi Scena, gestita dall'impresario Gennaro Alfieri, insomma validissima persona, un pilastro del teatro sicuramente partenopeo da più di un trentennio. Prevede vari spettacoli, partiamo, insomma ce lo guardiamo al volo, Maurizio Casagrande con La musica mi gira intorno, uno spettacolo che racconta un po' della sua vita e un po' di cosa lui è in scena, praticamente la sua vecchia passione che è la musica, reinterpretata e portata lì sul palcoscenico, parole note che abbiamo riproposto con tanta felicità in partecipazione con Radio Capital, Parenti Serpenti Lello Arena, Enzo De Caro in arte Totò, uno spettacolo scritto a quattro mani con Liliana De Curtis a un anno dal centenario della nascita del grande Totò, poi questo brutto weekend prodotto da Enzo Sanni, una produzione completamente romana con Beneditta Boccoli, Maurizio Micheli, insomma un bel cast, è un programma, la chiusura è di Simone Schettino, non c'è bisogno di presentarlo perché è sicuramente un grandissimo personaggio anche lui, è un cartellone sicuramente molto variegato che ci farà divertire, ridere, ci farà anche un po' pensare. La cosa molto bella è il vantaggio anche economico perché anche a quel lato là abbiamo pensato, i spettacoli li abbiamo proposti a 110 euro con la possibilità di rilazionarli in tre rate, insomma un teatro bello, piacevole per trascorrere tutte le serate invernali qui all'interno del Ferrari senza subire costi grandissimi.